Finalmente il momento tanto atteso è arrivato, sabato scorso in Giappone è uscita la nuova espansione di One Piece Card Game, o P07, e non vedevo l'ora di poterla spacchettare qui sul canale. Contiene 6 nuove carte special, 6 leader, 2 secret e la manga, ragazzi, questa volta è di Bo Hancock. Posso dirlo, insieme a quella di Luffy è la mia manga preferita. Non perdiamo tempo, cominciamo subito lo spacchettamento, ma prima vi ricordo sempre il like e l'iscrizione al canale per non perdervi i prossimi video. Per prima cosa andiamo ad aprire insieme il pacco che mi ha mandato Giappone, che contiene tutta la nostra fornitura di One Piece. Ci siamo! Intanto vi ricordo che se volete fare acquisti da Giappone avete il mio codice sconto Alessia da inserire nel carrello e vi può dare o il 5% di sconto oppure l'omaggio, a seconda che il prodotto sia o meno in sconto. Vi lascio tutti i link in descrizione. Prima scatolina, qua all'interno dovrebbero esserci dei box di One Piece. Eccoli, finalmente li vediamo dal vivo, ragazzi. OP07, il folder con le carte del live action di One Piece. Io su questo ragazzo lo stavo aspettando da tantissimo tempo, ma ci facciamo poi un video shot dedicato, mamma mia, quanto sono belle. Per finire un intero case di OP07. E così è come si presenta all'interno. Ci siamo! Ora possiamo gustarci lo spacchettamento. Il box è stupendo. C'è questo artwork di Luffy, lo troviamo anche nella sua parallel all'interno del set. Io direi che ci apriamo intanto un paio di pacchetti nella modalità classica e poi dopo gli altri li apriamo nella modalità ASMR. Dopo capirete che cosa. Un rapido sguardo anche al pacchettino. Chissà se ci porta fortuna già con una leader. No, perché lo sfondo dietro è blu. Andiamo a vedere i primi artwork. Allora, sono molto molto contenta, ragazzi. No, Papagoo, bellissimo. Moria. Vediamo se c'è qualcosa. Niente, molto bella questa. È Luffy a Thriller Bar, che è quando era trasformato. Altro pacchettino che ci apriamo in questo modo. Poi gli altri vedrete che cosa succederà. Abbiamo ancora il Papagoo, carinissimo, bellissimo. Anche il Chopper nella versione a Egghead. Poi Califa, Bartolomeo. Abbiamo la prima SR, ragazzi. Prima SR. Ottimo, sono contenta. Vediamo. Viola. Ok. Abbiamo? No! Lei è quella di Foxy, della saga di Foxy. Carina, dai. Anche se quella che io spero di trovare più di tutte è la SR di Boa e la SR di Luffy, che per me sono veramente stupende, anche come disegno. Adesso procediamo con la modalità ASMR. Le giro in avanti, così non ci spoileriamo la carta leader nell'eventualità che ci fosse. Ci siamo. Qui abbiamo il nostro mazzettone gigante di carte, che pian piano ci andiamo a svelare. Ci prendiamo intanto una piccola parte e partiamo. Chissà che cosa ci riserverà questo box. Però fatemi sapere anche nei commenti se vi piace questa modalità di spacchettamento. Abbiamo questa qua di Zor, molto carina. Boa leader, bella, bella, bella. Questa me la metto da parte e è meglio slivarli anche per non farle rovinare, le leader. Un evento. Usop bellissimo, sempre a Egghead. Mi piacciono tantissimo, tra l'altro i loro nuovi costumi anche. Allora, un'altra scena di Boa, molto carina. Koala. Poi, vediamo, però ragazzi nessun SR stiamo trovando. Molto bello anche questo di Boa. CP0, Moria. Dai, 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 dacci qualcosa. Foxy, ecco tipo la sua parallel, non la vorrei mai trovare. Ed è proprio parallel di questa, cioè della rara. Jimb è molto carino. Dai, neanche un SR bellissima questa di Robin. Mamma mia, troppo bella. Dai, dai. Comunque tutti gli altri box che avete visto del case ce li apriamo poi in una serata live. Mercoledì sera. C'è qualcosa. No, non mi dire che siamo già arrivati alla parallel, ok? Vedo brillare. Allo sfondo tipo argentato. Potrebbe essere già la parallel? Potrebbe? Non è la secret? Che potrebbe essere? Verde. Ok? Ragazzi, svegliamo. 3, 2, 1. Bella! Carinissima! Tama! È la parallel di una rara, però molto molto carina. Speravo di trovare Boa, sono onesta. Io volevo trovare la parallel di Boa, o anche quella di Luffy, che è veramente stupenda. Però anche questa è carina. Allora, intanto vediamo dietro che cosa c'era. Vegapunk è la scena. Bellissimo. Ok, intanto queste ce le mettiamo da parte. Andiamo a mettere una delle sleeve Easy Grip, anche queste le trovate sul sito di Giappone, codice Alessia per lo sconto. E sono comode perché così non dovete più mettere la linguetta sulle carte quando la mettete nel top loader. Ecco il risultato. Proseguiamo, ci prendiamo un altro mazzettino di carte. No, no, no. L'aspettate? Con calma, con calma. Potrebbe essere tipo anche una special o una lead. Andiamo per gradi. C'è qualcosa? Brilla tantissimo, ragazzi. C'è qualcosa. Andiamo, voglio vedere che cos'è. Mamma mia, se è una leader o una special. SR, SR della CP0. Vi giuro che stavo prendendo un colpo. Pensavo fosse una special. Continuano a non uscire quelle di Bo e quelle di Luffy o comunque quelle un po' più succose perché in questo set ce ne sono di super rare, davvero belle. Bonnie, anche di suo, esatto. Bonnie è la grande protagonista di questo set. Anche ne sono tante, mi dispiace. Cioè, ne vorrei trovare qualcuna anche da mostrarvela qua. Abbiamo il Don. Mamma mia, quanto spacca questo Don con tutta la flotta dei sette. Andiamo avanti. Però questa Nakamaru, l'ho riconosciuto subito. È un'artista che disegna tutte le carte in questo stile. Anche quella di Garp è particolare, se ve la ricordate. Chop, anche lui carinissimo. Poi, vediamo se c'è qualcos'altro. Gimbe, la sorella di Bo, Gimbe. Per ora comunque siamo a due SR e una Parlel, quindi direi che almeno altre due ce ne dovrebbero uscire. Oppure sono curiosa di vedere se fanno come con i B01, che a volte c'era sia la Secret che la Parlel. Anche quello non sarebbe male se ci desse anche la Secret. Leader di Vegapunk. Proseguiamo. Qua direi nulla. Leader di Foxy. Ci prendiamo l'ultimo mazzettino. E gli Arthur, che invece, ragazzi, vi piacciono? Come vi sembrano queste carte del set? Su me sono belle. Su comunque le andrò anche a disporre nell'album. Comunque farò il set completo in giapponese. Su me sono belle. Soprattutto anche questi di Egghead. Non mi aspettavo, ma sono belle. Il Piccione. Frankie, sempre a Egghead. Qua dietro. Vedo brillare. Spero non mi tragga in inganno come prima. Secondo me è l'SR. Non lo so. Vediamo. SR di Bonio. Finalmente. Finalmente un SR un po' più succosa, un po' più, diciamo, protagonista di questo set. Questa ci piace. Assolutamente. Anche la sua Parlel non sarebbe stato male trovarla. Poi, qua vedo brillare ancora. Vediamo. Aspettiamo all'ultimo, perché è l'ultima carta, eh. Vediamo se si nasconde. Magari una leader. Vediamo se il back è rosso. Il back è blu. Non è una leader. Potrebbe essere un SR oppure una special. Incrociamo le dita. Di botta. Facciamo di botta. 3, 2, 1. Oh, bella! Ah, questa la volevo trovare. L'SR di Luffy. Anche questa, tra l'altro, credo sia disegnata da Nakamura, che è quell'artista che a me piace. Quello che fa sempre il garp e la carta che vi ho detto prima. Questa mi piace parecchio. E la parallel di questa carta è quella che ha come artwork lo stesso del box. Quindi, intanto, considerazioni. Non c'è la carta secret insieme alla parallel. Il pull è regolare, proprio dei classici box One Piece giapponesi. Questa è quella che più volevo in assoluto. Quindi, SR di Luffy, top. SR di Bonnie, anche. Molto, molto contenta. Questa, vabbè, un po' meno, ma comunque devo completare il set. Quindi ci sta. Anche lei è carina. Poi abbiamo il Don. E abbiamo la parallel di Tama. Le cose belle le teniamo per la live, ragazzi. Sbusteremo le leader e le special in live mercoledì. Siamo arrivati alla fine del video. Lasciate like e fatemi sapere anche nei commenti che cosa ne pensate di questo set. Se avete aperto, quali carte avete trovato. Ricordatevi che tutti gli altri box ce li apriamo in live. Quindi ci aspettano delle belle serate super infocate in cui speriamo di trovare, ovviamente, le leader e le special più belle. E chissà, prima o poi, anche la manga, sono convinta che ci uscirà fuori. Vi saluto, ma ci vediamo presto in un prossimo video. Ciao!